Elisa le parolo creazione o imposizione acrilico su tela 50x70 cm. Immergiamoci in uno studio introspettivo di matrice fenomenica plasmato da Elisa le parolo, artista poliedrica che narra le sue riflessioni nei diversi studi materici. Osserviamo una rivisitazione secondo la tecnica della fluida arte della creazione, il momento in cui Dio conferisce il soffio vitale all'essere umano. Le parolo cattura quel momento invitando il futuro ad una riflessione intimista suggerita nel titolo, una domanda che c'era l'intensità della consapevolezza vitale. Circa narrazione cromatica l'artista ha suggellato l'essenza figurativa con la materia emozionale del colore. Una medesima emozionalità che riverberà anche nell'opera su Chirol Cell, acrilico su tela 25x30 cm, dove ci possiamo immergere una narrazione avanguardistica dove è proprio il colore a scandire lo studio figurativo. L'artista riesce nella commistione fra essenza della materia astratta e il surrealismo delle immagini, sintetizzando anche quelle suggestioni alla base della pop art, dando vita ad un'arte volta alla collettività. Lo studio cromatico riesce a scandire quella profondità dell'opera conferendole un senso di tridimensionalità. Anima dalle rughe dipinte, tecnica mista con acrilico 50x70 cm. Intensa è la narrazione fenomenica dell'interiorità umana. Elisa Le Parulo plasma un'opera introspettiva avvolta a raccontare l'interiorità dell'anima. Colori lineari, frammenti increspati animano il supporto, dando vita a quei colori dell'anima che ognuno richiama un sentimento, un'emozione provata. Al centro un solco, l'essenza dell'essere umano da cui sgorga la vita, che respira nella vibrazione concettuale dell'opera stessa. Patrizia Lodi L'Infinito Acrilico su tela 25x30 cm Lasciamoci trasportare nella meraviglia dell'infinito, raccontato dall'artista Lodi, in un'opera sinestetica, armoniosa, capace di suggellare meraviglia e stupore. Immergendoci nella relazione materica, osserviamo come ella abbia plasmato un'opera intensa, indagando sul bilanciamento armonico delle cromie, realistico lo studio dal vero del paesaggio, una composizione che risuona nell'anima, invitandoci a chiudere gli occhi ed immergendoci in quel crescendo naturalistico dove natura umana e vegetale coesistono. Il laghetto segreto Acrilico su tela 25x30 cm Intenso è lo scenario paesaggistico raccontato dalla Lodi, in questo studio realistico dove l'artista inibria i sensi, riuscendoci a far percepire quella meraviglia naturalistica. Osserviamo la capacità dell'artista nella resa materica dell'aria, plasmando uno studio prospettico che conduce lo sguardo a specchiarsi nell'acqua sottostante. È una poesia dell'anima, il realismo del paesaggio che tocca la percezione sensoriale di ognuna, emoziona il cuore, inibia i sensi, fa respirare l'anima nella fenomenologia dello spirito. Il paradiso può attendere Acrilico su tela 40x40 cm Si anima la natura nello studio istintivo della stessa, raccontato da Patrizia Lodi, l'artista narra una distesa paradisiaca, una natura intensa che si rivela, richiamando la meraviglia che si condensa nei campi, in queste distese floreali che accolgono cuore e mente. Tecnicamente osserviamo una lavorazione pittorica immediata sul supporto, dove i fiori sono il frutto della percezione dell'artista che lavora la materia pura direttamente dal contenitore alla tela, dipingendo l'anima delle emozioni. Nadia Mancino Senza titolo, Acrilico su tela lucida 30x30 cm Lasciatevi trasportare dall'indagine introspettiva che si anima nella simbologia figurativa proposta dall'artista Mancino, immergendoci nella lavorazione pittorica si noti come ella abbia lavorato la materia conferendo le tridimensionalità e profondità, facendo risaltare il rosso delle labbra, celando una simbologia intrisa che nella raffigurazione richiama la sfera della sensualità femminile dove le labbra evocano proprio la femminilità, ma anche i cinque sensi, stimolando la percezione visiva e suscitando la valenza del gusto. Undici piume Olio su tela 70x50 cm Si anima la simbologia pittorica dell'opera Undici piume dell'artista Mancino che indaga sulla simbologia spirituale riecheggiante nelle radici umane. Osserviamo una donna nuda, soggetto gardiena dell'opera, essa è il punto di incontro fra cielo e terra, acqua e fuoco, conferendo equilibrio allo studio geometrico della composizione del piano di fondo. Le Undici piume rimarcano la simbologia dell'opera richiamando il mondo divino, il volo dell'anima quando trova il suo equilibrio. Primavera Olio su tela 50x70 cm La primavera fiorisce nell'animo di chi osserva, coadiuvato dallo studio figurativo di Nadia Mancino in una primavera simbolica. Osserviamo una ragazza in primo piano dai cui i capelli escono fiori. È come se simboleggiasse la primavera che sorge e che rinasce dalle radici umane, che si animano da quelle naturalistiche in un tripudio emozionale, dove la simbologia guida l'interpretazione e sensibile ed introspettiva di ognuno di noi. Irene Manente Celeste Acrilico su tela 21x29 cm Emergiamoci in un'opera appartenente alla serie Donne di Carta, in cui l'artista scava nei meandri dell'essenza femminile, analizzando i moti dell'anima mediante lo studio minuzioso del volto. Manente ha realizzato l'opera su una pagina di un libro, riuscendo a trovare quel punto di congiunzione tra narrativa e arte, in cui l'una diviene il completamento dell'altra. Circa la sfera antropologica possiamo scorgere quasi una simbologia emotiva, in cui ogni essere umano è un libro a sé, e così l'artista lo fa riecheggiare nella poetica dell'essenza femminile. Fanny Acrilici su cartoncino 21x29 cm Una nuova narrazione circa l'essenza femminile prende vita nell'opera Fanny. Irene Manente racconta le mille sfaccettature della donna, immortalando un ritratto dalle fattezze semplici, una persona qualunque dove ognuno di noi può riflettersi. L'artista fornisce elementi circa l'abbigliamento e la donna, che sembra indossare un abito da lavoro, lo sguardo fiero, furbo, vispo, coinvolge il fruttore nel tessuto poetico dell'opera, indagando su quei moti dell'anima che ritornano nei tratti fisiognomici della donna. Tofì Acrilici su carta stampata 21x29 cm Una nuova narrazione poetica prende vita nell'ultima opera dell'artista manente, dove ritorna il tessuto come supporto delle pagine del libro. Tofì c'era un animo nobile, un cuore buono, suggellato nello studio realistico dello sguardo, l'ingiunità della gioventù, la commissione tra studio figurativo, pittorico e la matrice astratta della narrativa, che rende l'opera del tutto realistica ed emozionale. Grazie a tutti.